Ben tornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi, come stai? Non c'è male, non c'è male, dai su, ancora mi manca la voce purtroppo. Siamo qui in via Malpighi, come vedi i lavori di sostituzione dei tetti dell'amianto che tanto hanno fatto discutere e stanno procedendo bene, infatti eravamo venuti a vedere in particolare che la situazione, come vedi, sta procedendo. Sì, mi sembra che la parte di qua l'abbiamo già finita, stanno lavorando adesso su questo tetto di scelte, poi non so l'altro a che punto sono, comunque sia a questo punto mio intervento c'è, vedo che il materiale è stato portato tutto. Vedo anche delle sentinelle che qui non sfugge niente, siamo già stati segnalati sicuramente. Ah sì? Ci sono stati affacciati. Ah sì, sì. Insomma, è un quartiere popolare, residenziale, no? Sì, poi qui c'è la scuola, ci hanno fatto anche quella mega sala slot che è vicino, insomma, che non è 500 metri, ma stamattina sono informato, dice che era già abbastanza chiusa, perché non è che ci abbia quello, per fortuna, dico io, quel giro di persone. Non auguriamo le malassorte, le iniziative imprenditoriali che comunque... Io non auguriamo le malassorte, dico soltanto che per fortuna la gente forse inizia a mettere un po' giudizio, basta. Finché sono attività legali, amico mio. E chi dice assolutamente niente? Io dico semplicemente, non dico della sala, ma dico delle persone che effettivamente forse si rendono conto dei problemati che ci sono, visto i momenti che sono anche un po' tristi, che uno per arrivare a fine mese ci mette un po' di tempo, forse non è il caso di andare a cercare la buona sorte, perché la buona sorte uno se la fa con questa e con questa. Va bene, ma visto che siamo qui in Viamalpino, dimmi. Leggevo tempo fa che il Consiglio Bardelli e la Sussurre Tanti hanno redarguito qui il Centro Sociale perché c'è stata fatta una preghiera islamica che un giorno, da quello che abbiamo capito, un gruppo di Pakistan aveva chiesto se invece di fare questa preghiera che fanno ogni anno al Pionta, visto che anche il Pionta nemmeno loro ci vogliono andare giustamente perché visto come è ridotto, hanno richiesto la disponibilità della sala qui del CAS e gli è stata data, per alcune ore non è successo niente, è stata informata la Questura e tutto è dato a regola d'arte. Legittimamente, perché mi sembra che nel regolamento comunale sulla gestione dei CAS, dei centri di creazione sociale, sia previsto che non ci deve essere distinzione di razza e di religione. Credo che non ci sia discriminazione, perché nell'interrogazione si rimproverava il CAS di non aver informato preventivamente il Comune, probabilmente chi lo gestisce ritenendo, trattando questa cosa come fosse una festa di compleanno. Se il regolamento c'è la possibilità, ha capito, deve informare il Comune. Più che altro, io penso di aver capito che per loro era come ospitare una festa di compleanno, più o meno, anche se è stata informata la Questura come deve essere, quindi probabilmente non ci sono posti neanche il problema. Mi dai un secondo, forse vediamo di intracciare questo regolamento. Va bene. L'abbiamo trovato, e dice, come stiamo vedendo, dice effettivamente che, cioè, non c'è questo divieto, almeno legge questo passaggio, dice che non ci deve essere discriminazione religiosa nel conto, quindi ci sarebbe discriminazione se invito gli islamici, non invito i buddhisti o altre che dire. Allora a questo punto qui, io penso che l'amministratore deve fare una cosa semplice, invece di fare tutto questo polverone e accusare il CAS di aver fatto delle scelte sbagliate, penso che l'amministrazione si provi a modificare il regolamento. Io dico si provi a modificare il regolamento, vediamo cosa succede. A questo punto qui, io penso che tutti i CAS sono decittimati a fare quello che è stato fatto, cioè a fare delle preghiere islamiche, preghiere musulmane, non so se è la stessa cosa, oppure perché è di qualsiasi, di qualsiasi, esatto, vediamo un po' cosa succede, si prova a modificarlo. Cioè tu dici che dovrebbero scrivere che esplicitamente sono vietate manifestazioni religiose, ecco, si prova. Come sono vietate quelle politiche però, quello lo dice? Sì, ma è giusto, è giusto, è giusto perché la proprietà è di un'amministrazione Siamo sicuri che non ce l'hanno mai fatte queste feste, queste feste, queste iniziative in passato, per loro. Ma sai, politicamente nessuno dice niente perché c'è il bianco, il nero e il turchino tornando dai vecchi colori, dai su, quindi non c'è problemi. Il problema è questo, adesso, visto il momento, si vogliono fare delle forzature, ma se si vogliono fare delle forzature bisogna cambiare regolamenti, altrimenti non si può rimproverare alla gente di fare certe cose che può fare per chi è autorizzato a farlo. Quindi, assessori tanti, facciano una bella cosa, porti in Consiglio Comodale la modifica del regolamento dei centri della caratteristica sociale, nel quale si vieta espressamente che possono essere fatte manifestazioni religiose all'interno degli stessi. Provi. E vediamo. Cosa succede? Come diceva Fassino a Grillo, fondi un partito e vediamo come va a finire. Va bene, purtroppo non va a finire così. Purtroppo lo dici te, poi c'è chi non dice purtroppo. Purtroppo, va bene, ciao. Ciao.